30 secondi a via, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaglia, con la battiera ufficiale rosa ovviamente dello Stato. 15 secondi, attenzione, come di anno siamo alla countdown, 15 secondi, 20 secondi. E' parte in questo momento, abbiamo fatto attenzione la strazione del Giro di Cagna, 2 milioni e 20 secondi, Luca Zaglia, Presidente della Regione Veneto.